Buongiorno a tutti, mi sono Andrea Clown e adesso siamo qui a fare un quiz con le due scimmie, salutate Buongiorno Oggi ragazzi facciamo... Entrate, entrate Io ho il P90 col silenziatore, gli darò anche il trauma pack Così almeno hanno 200 di vite più il trauma pack Con il silenziatore e con il P90, praticamente gli faccio 2 di danno a colpo Allora, vi mettete in fondo E funziona così Se sapete la risposta, sparate un colpo in aria E il primo che spara, ovviamente, dà la risposta Vai, andate, andate In fondo, in fondo Aspetta Vada, vada Non so se ci sento Allora, alzatemi che poi vedo sparare nei piedi e non vorrei spararvi nelle gambe Ok, la prima domanda è semplice Il nome del primo season Black eyes Il quarto season E che cazzo Ma se sbaglio ti devi imparare adesso Ma ti stai un po' zitto Poi I primi due operatori in difesa Speciali o normali? Normali Non potrei dire il peggio? Che cazzo Ragazzi, te sei? Ragazzi, sono dei sass Non ho stato Ma è zitto, però è Allora Ditemi Le due armi principali di Ashe R4CE Ma fai R4CE? Ma fai R4CE? Ma sei una testa di chi? Ma stai zitto, Nicola Gai, gli dai la risposta Ma siamo un droid Se non la sapeva Senta anche lui G36G Allora Capitao Nel season school rain Che gadget aveva? Granate Che zitto Allora Vediamo un po' Quanti armi ha il numero? Quanti armi ha Twitch? 3 4 4 4 4 4 Eh, ha detto 3 Ha detto 3 Sì No, in realtà non è neanche 4 5 417 F2 Fucilla pompa Magnum E P9 Quindi 5 Allora Come si chiama? Qualcosa lì In inglese Basta In inglese In inglese Vuoi sapere? Che manco ho fatto Il cuoio Guarda, guarda Come si pensa Spara Spara Trauma pack Maronna mia Allora La cazzo ha detto prima Vediamo un po' Come si chiama La mappa Del terzo season Oddio E vabbè Però Crypto Fa un po' Pensare Favelas Non mi fa perdere Il tempo Dai Ma quanto vi dai? 152 Ma io lavoro Lo figliamo Tra 30 anni Finisce il primo Il tempo Allora Qual è la mappa Che è stata messa Nel gioco Ma non in un season Per l'anniversario Eh quindi Eh quindi Non la sai Aspetta Ma che non è Classificato Oppure Su cazzi tuoi È stato aggiunto Nell'anniversario Nell'anniversario Di un anno Di rainbow Bartlett university Maronna che ignorante Allora Elencatemi Gli operatori Nella squadra Speznaz Ma basta Crypto Ilanzo Più Z Tocci anche Capca Ho sparato prima Io però Bravo E finca E finca Dov'è E finca Dov'è CbN CbN Eh ma è sempre Speznaz Ha le stesse armi Non rompermi i coglioni Allora Eeeh Vediamo Un po' Ditemi L'abilità Di Caveira Il nome Posso Fai Il nome Vabbè Però Ma porca Lazzotta Allora Come si chiama Fammi pensare Alla Spare Una mappa Spare Mi tiene adesso Ok Nella mappa Parco divertimenti Secondo piano Non a sinistra Come si chiama L'obiettivo di presidio Ufficio Ma vai a cagare Eh lo zio Nino cos'era Eh asilo Allora Vediamo un po' E' perché Secondo piano di presidio C'è anche L'ufficio Eh a sinistra Ti ho detto Poi Eh 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 Allora Quando sono stati In che season Sono stati aggiunti Gli alpha pack What's Health No Dai Te No E' cosa Verdezcell Maronna Mi che ignorante Allora Cos'era Eh Operation health Quando vuoi che sia stata giù Ehm Ditemi il Settimo season Nome Settimo Blue d'Orchid Max Si è Blue d'Orchid Elencatemi in ordine Ovviamente dal più piccolo Più grandi gradi di rainbow Eh abbiamo fatto insieme No in alto Quale anche non classificato Vabbè dai no No Parti dal primo Rame 4 Rame 3 Rame 2 Rame 1 Rame 4 Rame 4 Rame 3 Rame 2 Rame 1 Rame 4 Argento 3 Argento 2 Argento 1 Rame 4 Rame 3 Rame 1 Rame 1 Torno torno Non piace mai Mi traccio Plattino 3 Plattino 2 Plattino 1 Diamante Ok Ok Maronna mia Sta Stia fermo Allora Poi Chi è Ah Ditemi Qual è L'operatore Con il sensore Per i gadget Ah sta Pulse Ah E qual è quindi Nico Sto scherzando Allora Quale mappa è stata tolta In questo season Dalla classificata No Merda Guarda che mi aiuto Orre Dov'a Dov'a Oddio Come si chiama l'arma qui in mano Aspetta che guardo Magno No Lume esatto 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 Vabbè dai Te la do buona Perché è difficile L'FP 586 Se ce l'avevo anch'io Magari Eh È fatto Allora Abbiamo un minuto e trenta Questa è la domanda decisiva Se non sapete questa Siete degli ignoranti Vi faccio un headshot Dritti dritti in the face Pronti Sicuro di fare un headshot Qual è stato Il primo acog Che è stato levato un'arma L'ho fatto prima io Vai Nico Vai Dillo allora Quale? Vai Dillo Lei Cosa mi dice La vetralletta di smoke Bravo Si è salvato Ah è vero Un SMG No È vero 2014 Quindi Ha vinto Direi Cripto Proprio 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 Ragazzi Spero che questo video Ci sia piaciuto Ascettate like un commento Iscrivetevi al canale Grazie agli due Schimpanzai Per aver partecipato Salutate Non so più L'immagine Bello Arrivederci Arrivederci Anzi Facciamo una cosa Batti le mani Scocca le dita Devo arrivare I dieci minuti di video Batti le mani Scocca le dita Mancano sette secondi Sicuro 4 3 2 1 Ciao ragazzi 5